ma subito lungo sta arrivando senza fallo però la palla rimbalza calcia il 21 che risposta del portiere e allora tiro libero va direttamente in porta vola il portiere ancora a dire di no pallone messo sul secondo palo la palla sfila la deviazione vincente nel numero 21 Romanelli e c'è il vantaggio dei The Players il pubblico incita Zaccaria parte col destro la mette dove non può arrivare il portiere raddoppio The Players 2 a 0 palla dentro Ragnolo e attento prova a spazzarla poi rimane lì contro la calcia ancora in volo il portiere terzo intervento decisivo Acrobazia messa dentro di meglio in qualche modo la palla però rimane lì ancora a rischio della da dietro dal 14 il piazzato vincente 3 a 0 The Players così che la alzerà per Di Marco ancora Di Marco con deviazione colpo di Reni del portiere che evita il gol del 3 a 1 Pasquali si ferma e poi riparte Pasquali non si ferma più Pasquali dentro la palla rimane lì è capoggiata per il 19 che non può sbagliare piazzato vincente 4 a 0 The Players chiude Grimaldi attento poi continua a lottare Romanelli la palla sfila Anelli traversa Romanelli sul secondo pallo c'è Zaccaria prova la girata che gol di Zaccaria 5 a 0 The Players Tuvulski in qualche modo la palla torna a Batreano pallone che finisce in porta 6 a 0 The Players Grazie a tutti